Signora, entretanto abbiamo già delle notizie relacionate con il caso di Marco Laclay con la pubblicità e la signora Abrams ha dato un commentario conseguentemente il Ministro ha fatto il suo armi per un motivo che ha avuto da involucrare. Cosa vuoi pubblicare? Lo che mi pubblico è che mi sono davvero lamentabile che il Ministro Navarro ha fatto una notizia e un po' altro che ha avuto la vita personale di venire Abrams e ho avuto 7 anni da Viva Junto e ho avuto una carta due settemane passate da parte del Biro interno che ha avuto il Ministro che mi ha avuto una notizia che mi ha avuto un tragetto ora ho avuto un po' altro motivo e ho avuto una carta di parà per motivo con il suo partner che è arrivato nel 2021 a causa di abuso domestico e ho avuto una carta di parà la scuola che mi ha avuto una carta di parà mi sono presenti qua ma dò non ho, ci sono il fatto che ho fatto. Pertanto, mi sono presenti a un giorno, mi sono sentito nella mia domanda. La mia ultima notizia è mia collega mi sono presenti un breaking news, che mi sta guardando maltrato severamente. Anteri mi ha chiesto, mi sono chiesto, le ho chiesto, mi sono chiesto, mi è chiesto, mi ha chiesto, mi ha chiesto, mi ha chiesto e mi hanno chiesto. Mi ha chiesto, mi ha chiesto, mi ha chiesto e mi hanno guardato una maltrata. Io non voglio non mi ritrovare a maltrattare e... ...mi hai chiesto di dovuto me dire che mi ritrovare a maltrattare, non mi hai chiesto da coppa di nulla. Ma non mi ha detto una declarazione, ma non mi ha detto una declarazione che il ministro portare da abogato per l'arrivo. Qui c'è un foraggio, che si è un clack e un becclack. Se mi ha comprobato di bispo, ma non mi ha detto un becclack, ma non mi ha detto una declarazione. Ma non mi ha detto una non mi ha detto, ma non mi ha detto un momento, ma non mi ha detto che ci siamo trascendo di là di noi. Ora, ho detto che era il ministro, non ho fatto venganza del sindicato, che si è in controllo di me, Abrams, che aveva fatto un po' di verità. Ho fatto un'altra parte, e ho fatto un'applicato pubblicato, un'ultima notizia. Il primo giorno, Abrams è arrivato a Londra, ho fatto un'ultima notizia, ho informato che ci sono arrivati a questo mondo, di fuente dell'Eguinana, ma papi con il signor Martina, nelle tre occasioni che vi asunto qui. Ela chiede di bene a investigare questa cena, mi non ha detto niente, ma c'è un altro caso, un altro, un colega di Nang, se mi ha detto di burgarlo qui, con tal cosa che dà sì, mi ha chiesto di ministra per ascoltarmi, ministra, ma non vuoi saparmi, contestarmi, mi non ha detto niente di papi con il signor, io faccio una buona notte. In questo modo, il ministra usa il argomento, con la carta, per fare un'investigazione di Abrams per motivo che mi ha detto di Abrams. Quindi il mio ministro vi mostrò a me, dove c'è questa cosa, che dà me ha detto, perché sono 5 minuti che ci sono arrivati, e non ci sono arrivati, è una declarazione che mi ha detto di una toccante di un'inversione robesca che mi ha detto, che mi ha detto di un'inversione di comunicazione. E' stato fatto a desarmare, Buona relazione con ieri e la declarazione con l'Abraham si è in caso della CLEI? Il ministro dice che si è intermigioso per la vita privata e il ministro dice che il ministro dice che abbiamo fatto un po' di sindicato in fondo, un po' di sindicalismo che ha fatto da cura del sogno. che mi administra, mi senta up e duro, posso abrugare un segotrafo, un dia di piedi, devo segotrafo tutti i assi, non ho problemo con l'invento.